Veniamo ora a Ricciardi, perché oggi si vede che c'è una fase lunare per cui tutti devono dire qualcosa di particolarmente illogico. Allora, variante Delta Covid, Ricciardi buca anche doppia dose di vaccino. Ho già spiegato a Ricciardi che si dice elude, non buca, comunque vabbè. Allora, l'ha dichiarato ad Agora Estate su Rai 3 Walter Ricciardi, che è consigliere del Ministro della Salute e Speranza, che però, voglio dire, c'è giusto speranza, c'è il rapporto di fiducia con speranza, non certamente con il resto dell'Italia, possiamo dire così. Il Green Pass rilasciato dopo una sola dose di vaccino deve essere abolito, dice lui, perché anche lui ovviamente ha la sindrome del governo io, decido io, anche se non rappresento nessuno. Allora, non ve lo leggo tutto perché mi sono pure rotta le palle io, ma la questione dice, con la variante Delta, anche se si è vaccinati, si può essere infetti. Questo è il grandissimo risultato della campagna di massa, no? Lo rileggiamo con la variante Delta, oggi, se si è vaccinati, si può essere infetti. E buca persino il doppio ciclo vaccinale. Non vi sto a leggere la metà perché ve lo andate a leggere voi, se volete. Perché vi volevo leggere la conclusione. Quindi, siccome si può essere infetti anche se si sono ricevute le sue dosi, la variante Delta è molto contagiosa e temibilissima, infatti gli ospedali sono strapieni in questo momento, quindi vacciniamo, vacciniamo e vacciniamo. Ma se mi hai appena detto poche righe sopra, viva il Signore Gesù Cristo, mi hai appena detto che se si è vaccinati si può essere infetti. Come fai a dirmi qualche riga dopo vacciniamo, vacciniamo e vacciniamo? Spiegami il passaggio mentale, Walter, di questo ragionamento, perché sei un medico, ok? Io da un medico mi aspetto un'argomentazione logica, non particolarmente elaborata, ma almeno logica, Ricciardi.